Ciao a tutti ragazzi dal vostro GianluFarmer92 e finalmente dopo qualche mesetto penso torno a registrare con grandissimo piacere torno a registrare presentandovi The King of The King of The King e il re dei re dei re dei re Mr. Fend serie 1000 proprio come avevo fatto nel 2015 se vi ricordate questo è il famoso Fend 1000 vario costruito su base del 936 di fructore yucca però proprio come nel 2015 è tantissima roba sia come modello come interazioni e personalizzazioni soprattutto possiamo farci praticamente di tutto poi di là vi ho preparato ogni singola personalizzazione dopo andremo a vedere e allora qua Fraps incomincia a fare i suoi scatti del cavolo nel 2017 comunque allora dicevamo il modello è ovviamente su base fatto su base del 936 di fructore yucca ma trasformato in serie 1000 cambiando il muso e tante altre cose prima di vedere un po' modello interni andiamo sullo store lo trovate ovviamente in trattori scorrete in fondo verso le mod e troverete Fend 1000 vario F con 320 euro al giorno il costo di manutenzione vabbè le cavallerie poi le vediamo dopo 678 litri di gasolio velocità massima ragazzi siamo intorno agli 80 km ori perché fai 75,6 perché quel virgola 6 è importantissimo e andiamo a cliccare vediamo un po' cosa possiamo fare allora cosa possiamo fare possiamo attaccargli il caricatore frontale solo che mi è stato riferito e ringrazio Paolo Valselli che il caricatore frontale non si vede quando lo mettete per cui piccolo errorino da sistemare abbiamo ovviamente le possibilità di configurare il motore cioè farlo diventare dal 1038, 1042, 1046 e 1040 scusate 1050 vario che è la punta di diamante l'ammiraglia della serie 1000 partiamo dal 1038 con 396 cavalli, 1042 435 cavalli, 1046 476 cavalli e la punta di diamante che è il 1050 vario a 517 cavalli abbiamo la possibilità di colorarlo ovviamente i due verdi Fend poi configurazione a ruote abbiamo standard, i pesi alle ruote, i pneumatici più larghi le doppie ruote posteriori, le doppie ruote classiche e i pneumatici stretti poi il design abbiamo lo standard ovviamente quello che ho io qua davanti il black beauty che anche qui ringrazio Paolo Valselli no scusate no qui non è Paolo ma l'ho notato io che il black beauty non lo fa vedere ma esce sempre verde il green beauty che teoricamente è sempre un verde ma un po' più particolare e quello con le parti cromate allora ve le faccio vedere al volo così ne approfittiamo qui abbiamo le varie personalizzazioni vedete abbiamo le doppie ruote gemellate sia davanti che dietro qui anche ne avevo presi due ah no il black beauty si che lo fa vedere che stupido si lo fa vedere ok il black beauty lo fa vedere sempre con ruote gemellate ruote gemellate, ruote gemellate non so come mai ne ho presi così tanti con ruote gemellate comunque vabbè il black beauty lo fa vedere comunque guardate che mostro con le ruote gemellate che meraviglia che è e poi qui abbiamo qua abbiamo quello con le parti cromate qua vabbè le ruote gemellate dietro ok ruote larghe dove sono le ruote larghe con i pesi alle ruote e le ruote larghe ok poi quello cromato quello cromato non so dov'è che sia se è qua eccoli qua vedete le parti queste qua sono le parti cromate cioè questo grigio cromato qua che comunque non è non è niente male ma io continuerò a preferire continuerò a preferire il classico madonna santa sto fraps non capisco come mai deve farmi sti tiri qua poi ovviamente abbiamo le doppie ruote strette e le ruote strette classiche ovviamente montate su perché deve rompere le scatole così aspettate eh adesso faccio un piccolo stacco ok eccoci qua tornati allora diciamo appunto il modello non è non è niente male peccato tutta questa lucentezza che Steph mette sempre sulla carrozzeria che non capisco come mai comunque assali tutto a posto tutto indipendente perfetto su ogni minimo dettaglio vediamo dietro attacchi presidrauliche sollevatori agganci tutto quanto perfetto saltiamo a bordo che adesso abbiamo un po' di ci da vedere allora andiamo in cabina come potete ben vedere la cabina è ben fatta nulla da dire a riguardo su dettagli e cose varie abbiamo anche il nostro bellissimo iphone lì appoggiato teoricamente cos'è un iphone 4 addirittura allora i c dunque sempre con alt sinistro ne abbiamo un pochettino da vedere allora partiamo da qua sopra ovviamente con l'f1 aperto perché se no succedono i macelli tendina parasole ovviamente diciamo così però accendiamolo va almeno vi fate un'idea anche del sound allora tendina parasole anche questo qua uguale open sound visor ok tendina parasole su e giù questa allora questa la fa scendere fino giù questa qui la ritira su tutta giù se premiamo questo per tirarla su la tira su la tirava su a metà vabbè fa niente comunque su e giù la tendina parasole poi questo non capisco che cosa sia perché non si accende nessuna luce qua dentro vedete che cambia la tonalità di illuminazione esterna open indoor window boh non lo so vedete che cambia illuminazione ma se voi scoprite di più qualcosa fatemelo sapere perché non non riesco a capire vabbè comunque poi questo qui open camera guardate bene cosa succede praticamente avanziamo di visuale avanziamo verso avanti infatti si spostano anche gli specchietti si porta avanti la cloche e tutto quanto con lo schermino però io principalmente lo preferisco un po' più indietro che ho un po' più ho una visuale un po' più ampia così ecco poi qui sotto possiamo tirar via i parafanghi e senza parafanghi è così come potete ben vedere carino così anche adesso li rimettiamo poi qui qua sotto possiamo mettere il pomello per la guida e qui siamo a posto poi qui a destra possiamo allora prima facciamo questi quattro qua sono i vari pannelli pannello della orsh pannello della pottinger pannello della zunhammer e pannello della cron ovviamente non sono interattivi io ne lascio solo due poi allora qui abbiamo open vario tronic che teoricamente ok spegniamo e accendiamo lo schermo qui abbiamo open screen ce lo tiriamo avanti e ce lo tiriamo indietro così poi qua ricomincia a saltellare un po' tutto perfetto andiamo dietro abbiamo il lunotto posteriore con annesso rumore del pistoncino e ovviamente indoor sound quindi se chiudiamo si sente meno con annesso rumore di chiusura poi andiamo qui a sinistra possiamo aprire questo porta oggetti chiudiamo ok poi qui apriamo il sedile passeggero e richiudiamo porta a sinistra anche qui con annesso rumore è tutto poi possiamo regolarci lo specchietto per avere un po' più di visuale vedete avanti indietro così direi che si vede bene poi allora questo l'avevamo già fatto che non mi ricordo che cosa era qui possiamo tirarci giù la tendina parasole a destra e basta qui mi sembra che non c'è altro vabbè l'unotto superiore si apre anche qui rumore di pistoncini e suono e chiudiamo perfetto poi non ho visto se all'esterno si ha delle funzioni allora qui abbiamo l'apertura della porta ovviamente con il tasto R sempre poi non ha funzioni di togliere i parafanghi qua non ne ha qua non ne ha qua non ne ha qua non ne ha e qua non ne ha ok adesso non mi ricordo se il motore si poteva aprire non mi risulta però già che siamo qua diamo un'occhiata ai trigger c'è un trigger solamente qui e basta ok perfetto scendiamo un attimo e torniamo su perché se non mi ricordo male questo qua gli si poteva anche aprire il motore però in questo caso no vediamo un po' se ci siamo dimenticati qualcosa questo qui l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto i parafanghi il pomello il sedile il passeggero la porta lo specchietto i 4 qua i 2 del pannellino e basta basta si qui vabbè tendina parasole dietro chiaramente boh non c'è altro perfetto poi come illuminazioni abbiamo praticamente tutto vabbè le frecce all'esterno 4 frecce freccia sinistra freccia destra tutto assolutamente funzionante abbiamo anche l'illuminazione vedete sia acustica che visiva poi qua abbiamo che siamo in folle se vado avanti vedete va la freccia in avanti se vado indietro freccia retro come potete vedere schermo 7 segmenti tutto animato velocità giri ore di lavoro e orario del gioco il vario ovviamente funzionante il joystick funzionante purtroppo questa reflection non mi piace tantissimo anche sugli interni vedete sul sul vario sul joystick c'è questa lucentezza che non mi piace molto poi fanaleria vediamo un po' la fanaleria dai accendiamo un po' vedete qua ci si illumina anche tutto internamente qui abbiamo luci allora luci basse la madosca che lucide luci dietro da lavoro luci alte da lavoro e basta comunque vedete che bella bellissima illuminazione tra l'altro sono luci molto 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 potenti guardate che belle questo muso ragazzi è qualcosa di spettacolare davvero interno cabina tutto ovviamente segnalato sul pannellino vedete luci basse alti e alti adesso prendiamo un qualcosa di potente magari un coltivatore perché noi comunque adesso abbiamo il 1050 quindi abbiamo 500 e passa cavalli se configuro il 1050 517 quindi prendiamo un qualcosa di veramente forte prendiamo un coltivatore tipo la emidiago 140 quindi è piccolina 350 dai prendiamo il knock airling quello grosso vediamo un po' di mettere sotto sforzo sto fend prendiamo un peso peso gli mettiamo su si vi danno anche questo peso che è 3300 vedete 3300 chili sono 1300 euro compriamolo così ci andiamo ad attaccare come dicevo prima indoor sound specchietti tutti funzionanti si vedono perfettamente c'è tutta la mia serie tutta la serie 1000 praticamente andiamo prima di tutto ad attaccarci con il peso che non ho visto se me l'ha girato da questa parte o no si è girato da questa parte meno male che me ne sono accorto attacchiamo il peso ora non capisco se le ruote hanno la questione peso schiacciamento e cose varie ma adesso lo vedremo tranquillamente in campo questa è la bella mappa della sosnopka che tutti conoscete luci 3D chiaramente eccoci qua con sto bestione quindi andiamo verso il campo e andiamo a provare lampeggianti ovviamente funzionanti tutti vediamo un po' lampeggianti 3D e acceleriamo un pochettino 75 km ragazzi è un bel viaggiare per un trattore penso non so se siete d'accordo con me allora andiamo magari un po' vicino qua potremmo anche eliminare ogni singola cosa ma volevo un campo magari non 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 fatto un campo non fatto dove possiamo andare in un campo non fatto vabbè dai apriamo qua gli spieghiamo il nostro bellissimo attrezzo guardate che mostro mi dispiace mi dispiace solamente che ogni tanto ci siano questi problemi di poi quando tolgo gli hood ovviamente mi dispiace che ci siano questi problemi di lag ogni tanto con fraps ma vabbè ok allora mettiamoci su e andiamo ovviamente tirare lo tira divinamente eccoci qua bei 16 km orari non fa fatica chiaramente anche perché qui richiede un 350 cavalli noi siamo oltre i 500 cavalli ragazzi cioè rendetevi conto che mostro che è facciamo un paio di passatine così ci rendiamo conto anche di come lavora passiamo bellissimo anche sto coltivatore comunque nella serie quando avremo un po' di soldini che ci saremo ingranditi lo prenderemo anche noi sicuramente mettiamo l'operaio che così almeno vediamo anche come lavora ecco qua il nostro operaio ai 16 km orari guardate che che bello che poi c'è anche una gran bella tipa che sta guidando una bella biondina guardate lì signorina guardate che bella una bella biondina bella svedese eccolo qua al lavoro il nostro caro vediamo un po' se la tipa è capace a fare manovra guardate che brava che si posiziona per bene bravissima ed ecco qui il nostro fend che traballa grazie alla alla mod adesso non mi ricordo più come si chiama che c'era la tire di la ground response vedete la ground response che bei movimenti che gli fa fare vediamo anche il ponte davanti che è perfetto non si staccano le ruote come nel 2015 ha i mezzi di default e adesso riprendiamo in mano tutto chiudiamo il nostro bellissimo attrezzino avete visto comunque come lavora è un gran cavolo di mezzo nulla da dire perché comunque Steph a parte il problema qualche problemino della lucentezza sulla sulla carrozzeria appunto e sul joystick o comunque su altre parti su altre parti del del mezzo devo dire comunque ripeto come interazioni cose varie non ho assolutamente nulla nulla da dire personalizzazioni interazioni giocabilità bella guida bel sound bello 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 proprio veramente bello perfetto oh ragazzi io termino qui il video vi ringrazio tantissimo per avermi seguito vi chiedo scusa tanto se non riesco più a pubblicare video come una volta ma comunque ho avuto dei problemi e soprattutto ho il lavoro che mi tiene impegnato tutto il giorno quindi quando riesco faccio un video adesso cercherò di essere un po' più presente cercherò di portarvi anche il video della serie perché comunque ho visto che vi piaceva e voglio assolutamente continuarlo sempre con un x druido e tutti i vari ragazzi e poi magari se riesco ad avere anche un po' più di tempo vedrò magari di fare un server free dove farvi entrare farvi vedere in video farvi lavorare con me che so e ringrazio tanto chi mi fa i complimenti che so che vi sto simpatico so che vi piacciono i video quindi vi meritate anche di giocare un po' con me quindi ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao